1943. Un mondo in guerra. Un mondo in subbuglio. Abbiamo bloccato la campagna di Hitler in Nordafrica. E adesso? Churchill ha spinto gli alleati a invadere l'Italia. Ha definito l'Italia come il ventre molle dell'Europa. Gli americani erano indecisi, ma Winston li ha convinti. Il generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo degli alleati, sta studiando la strategia nel Mediterraneo. Quanto a me, sono diretto a Sancelini, una remota isola sud-ovest dell'Italia. Ultimamente perdiamo navi in questa zona. Per i servizi britannici è da imputare alla presenza della Luftwaffe a Sancelini. La marina britannica ha inviato un mercantile italiano catturato all'Orchidea per condurre indagini. Aveva a bordo la più recente tecnologia di intercettazione radio. Le informazioni raccolte confermano i nostri timori. I nazisti hanno una nuova arma speciale. I sopravvissuti delle navi distrutte parlano di un nuovo tipo di missile. Radio comandati dall'aereo che li lancia. Questi razzi possono localizzare le nostre navi con precisione letale. Orchidea aveva il compito di monitorare il traffico radio della Luftwaffe e scoprire le attività tedesche. Anche se avesse richiesto il sacrificio estremo. Ora dobbiamo scoprire cosa tramano i nazisti e come possiamo fermarli. Un alto ufficiale della Luftwaffe si trova sull'isola. Il generale Tobias Schmidt. E nelle grazie di Hitler lo sanno tutti. Schmidt non si lascerà mai prendere vivo e non tradirà mai il suo amato Führer. Ma potrebbe avere con sé informazioni utili per noi. La mia missione? Uccidere Schmidt e tutti gli altri ufficiali. E poi sparire. Quegli uomini non devono essere morti in vano. Devo scoprire tutto ciò che posso sul nuovo razzo. Smith è il mio obiettivo primario. Devo scoprire i piani dei nazisti per il nuovo missile. Smith non è l'unico bersaglio. E gli ufficiali. Smith non è l'unico bersaglio. Dovrò saltare. Smith non è l'unico bersaglio. Smith non è l'unico bersaglio. Si possono salire. La torre sembra un buon punto di forza. Perché quella telecamera? La torre sembra un buon punto di forza. 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 la torre sembra un buon punto. la torre sembra un buon punto di forza. 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 Grazie a tutti. 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 io Sì. 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 A presto! 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 A presto!